Torniamo alla notizia di apertura del nostro Tg, parliamo di politica, della vicenda del riconteggio delle schede elettorali legate alla elezione di Roberto Cotta, presidente della regione Piemonte. Sono i minuti infatti chiave per la decisione della quinta sezione del Consiglio di Stato che deve deliberare sulla validità della sentenza con cui il Tare, il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ha dichiarato invalide due liste elettorali e quindi disposto il riconteggio dei voti. Per sapere le ultimissime, se c'è già la sentenza del Consiglio di Stato, noi abbiamo in linea al telefono la nostra collega Paola Gatti. Pronto Paola? Ciao Fabrizio, ci sono novità? Ci sono novità, sì. Il Consiglio di Stato ha deciso e definitivo, è stato accolto il ricorso di Cota, quindi Cota è confermato presidente della regione Piemonte perché immediatamente verrà sospesa la sentenza del TAR di Torino, quindi verrà annullato il riconteggio delle schede, tant'è che in aula di Consiglio regionale dove c'era una seduta in corso si è sentito un lungo applauso e un coro Cota Cota che ha accompagnato appunto la notizia dell'accoglimento del ricorso del presidente della regione. E intanto qualche deputato della Lega ha anche sventolato il fazzoletto verde appunto in segno di vittoria. Paola, quindi correggimi se sbaglio, anche perché la decisione come giustamente hai detto è proprio di questi secondi, neanche minuti, secondi, il ricorso di Cota quindi è stato accolto e questo comporta il fatto che viene in automatico annullata la decisione del Tribunale amministrativo regionale che aveva disposto il riconteggio dei voti, quindi tutta quella che è stata la polemica anche sui riconteggi provincia per provincia viene a decadere, viene annullata la decisione del TAR e Cota è più che mai in sella da governatore del Piemonte. Sì, praticamente in buona sostanza Mercedes Bresso deve deporre le armi e accettare la vittoria di Cota, evidentemente adesso non sappiamo ancora le motivazioni del Consiglio di Stato però è pensabile che abbia accettato la lezione secondo la quale chi ha votato quelle schede che sono state invalidate in automatico avrebbe votato anche il Presidente, quindi si sapeva il voto era disgiunto, votare un consigliere significava votare in automatico anche il Presidente per la quale lista il consigliere si era candidato. Certo, questo è assolutamente fondamentale ricordarlo, come a questo punto sarà anche importante seguire quali saranno le prossime mosse perché evidentemente aspetteremo quelle che saranno le motivazioni del Consiglio di Stato per capire perché si è arrivati a questo tipo di decisione e poi ovviamente anche raccogliere e comunicare, testimoniare quelle che saranno poi le prese di posizione evidentemente della parte sconfitta quindi di Mercedes Bresso e della lista della coalizione di centrosinistra che aveva perso le elezioni dello scorso inverno. Quello che va detto a questo punto è che comunque Cota può proseguire senza problemi in quello che è il suo mandato elettorale. Sicuro, anche perché l'avvocato Luca Procacci, l'avvocato del Presidente Cota, si era lamentato dicendo che, anzi segnalando ancora una volta, che la mancanza di una decisione chiara fino qui aveva paralizzato la governabilità alla Regione. La Regione appunto non era più riuscita ad andare avanti nei suoi lavori, tutto era bloccato. Questo è un passaggio importante perché Cota può veramente iniziare a governare la Regione Piemonte. In effetti già dal momento in cui i legali si erano confrontati di fronte ai giudici nell'udienza, qualche segnale positivo c'era perché il legale di Bresso, Luca Di Raimondo, aveva presentato una richiesta di rinvio spiegando che alcuni documenti relativi a due appelli incidentali, uno dei quali riferito alla lista di giovine, sarebbero arrivati in ritardo non permettendo ai legali della Presidente uscente di valutare. E noi ovviamente ne parleremo ancora lungamente nelle prossime edizioni del nostro T4.